Esasperate dal chiasso provocato dalla movida estiva di una serie di locali della zona. È una vera sollevazione quella di alcune decine di famiglie residenti sul pubblico passeggio e nell'ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele. Musica ad altissimo volume e schiamazzi notturni anche durante i venerdì piacentini da poco conclusi che in molte serate disturbano il sonno degli abitanti, di fatto senza concedere tregua considerato il fitto calendario di eventi in programma. Siamo costretti a vivere segregati in casa con le finestre chiuse per cercare di difenderci dal rumore, fanno sapere. Così da qualche tempo gli stessi residenti hanno deciso di opporsi a questa situazione con tutti gli strumenti a loro disposizione per far valere il diritto alla quiete. Sono così piovute segnalazioni al comune, ad Arpae, fino ad arrivare a un esposto presentato da 25 famiglie contro il karaoke del locale Tartana di via 4 Novembre, che a loro dire in alcune sere prosegue fino a notte inoltrata in barba alle normative. Come detto la minaccia giunge però da diversi locali del circondario che organizzano serate con musica dal vivo praticamente da maggio a settembre. Ma la rabbia monta soprattutto nei confronti del comune che secondo loro concede le autorizzazioni ma poi non fa rispettare le regole. In una lettera indirizzata qualche giorno fa all'assessore all'ambiente Paolo Mancioppi si denuncia, siamo costretti a subire una situazione invivibile. Interpellato sulla questione il titolare del pub La Tartana, Antonio Vincis, ha contestato le accuse che vengono mosse al suo locale e si dice amareggiato. Penso ci sia un accanimento nei nostri confronti, ha aggiunto, non abbiamo sforato il numero di 16 serate consentite e dubito che il karaoke fatto a decine e decine di metri di distanza sfori i 70 decibel sul pubblico passeggio. Intanto da lunedì mattina il dossier sul presunto inquinamento acustico provocato da questi locali si trova sui tavoli degli uffici competenti di Arpae.